Paura in ospedale a Chieti dove sono state avvertite distintamente le forti scosse di terremoto. Al policlinico la ASLA ha trasferito temporaneamente le pazienti ricoverate nel reparto di ginecologia ostetricia dell'ospedale dal corpo C al corpo B. Pur non essendo state riscontrate crepe, lesioni o danni in generale, spiega il manager dell'ASLA Pasquale Flacco, la decisione è stata presa per dare maggiore tranquillità alle neomamme. Le pazienti occupavano i letti del 13esimo e 14esimo livello del corpo C che, come noto, venne progressivamente svuotato dopo l'accertamento eseguito da tecnici incaricati dalla regione Abruzzo qualche anno fa che ne ha messo in dubbio le garanzie di stabilità da un punto di vista sismico. Nell'unità operativa ci sono stati momenti di forte paura a causa delle scosse avvertite in modo netto dalle degenti e dal personale, spaventati dal timore di trovarsi in un luogo vissuto come poco sicuro. Al fine dunque di riportare tranquillità, la direzione aziendale ha optato per il trasferimento delle circa 15 ricoverate al dodicesimo livello del corpo B, in attesa di effettuare nuove verifiche con il supporto di organismi tecnici competenti in materia.